Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 panoramica. Per lavori di manutenzione è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra il Vivio con la 1 direttissima e il Roncovilaccio verso Bologna. La riapertura è prevista per le 16. Chi è diretto a Bologna deve utilizzare la direttissima. In a 12 un chilometro di coda per lavori tra Carrara e Sarzana in direzione di Genova. Per le statali sull'Aurelia rallentamenti per cantieri tra ingresso del Maroccone e l'incrocio variante di Quercianella nei due sensi di marcia. Ricordiamo inoltre che è in vigore l'obbligo di catene a bordo, dotazioni invernali su gran parte delle strade della Toscana, l'elenco completo sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico ferroviario informiamo che la biglietteria di Montecatini Centro quest'oggi è chiusa al pubblico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!